ok mister grazie per la disponibilità io parto subito da quello che è il nostro format quindi parto subito con la prima domanda che andrà poi a seguire quelle che sono le le tre domande che faccio sempre gli ospiti di tre domande con e parto con la prima chiedendo quale è la sua visione di calcio ma guarda ovviamente quando si parla di calcio e deve essere calcio e quando io faccio la prima la prima presentazione alle alle ragazze o ragazze che che giocano metto due due slide dc prima di tutto football all che sarebbe tutti che dobbiamo essere coinvolto cioè lo staff alla gente che lavoro dobbiamo sempre parlare di football e dobbiamo sempre parlare di calcio nel senso di delle soluzioni le domande deve essere attorno di calcio cioè cosa 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 intendo intendo che anche nel reparto medico non parliamo di cose inoltre di la la situazione di calcio come possiamo ricuperare una ragazza che fare il nostro calcio poi parlando più in fondo di di calcio ovviamente un è un'idea di di proattivo proactive football un football che noi vogliamo con la palla e faccio anche questa seconda slide della palla dobbiamo controllare sempre noi la palla cioè nei ritmi la costruzione quando quando di andare in verticale subito quando di preparare la verticalizzazione che è una parola che riesco non sempre mai dire però per noi è sempre un un'idea di proattività con la palla di capire di preparare di quando andare in in verticale ma anche di preparare quando dobbiamo controllare la situazione ovviamente senza la palla parliamo di di equilibrio e controllo dell'altra squadra cioè di capire quando dobbiamo ricuperare la palla ovviamente per noi è sempre di ricuperarlo più alta possibile più presto possibile però ci sono delle volte che quando non lo possiamo fare dobbiamo anche avere un'idea di di controllare l'altra squadra nella fase della fase di di diciamo difensiva bellissimo io proseguo ehm chiedendo poi sulla linea di quello che appena detto nella prima nella prima risposta che che ci ha dato quali sono i principi in fase di possesso e quali i principi in fase di non possesso palla ma quando parlo di principio è sempre una 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 situazione interessante perché i principi si adattano della della situazione ovviamente se o se una squadra di della costruzione di bassa diciamo dal dal portiere se la squadra ti ti pressa con con due noi dobbiamo cercare il terzo se loro pressano col tre dobbiamo cercare il quarto nel senso allora diciamo sempre nella nella situazione della fase di costruzione la fase di di attacco vogliamo sempre trovare o preparare la superiorità numerica questo non dire che delle volte hai di trovare la soluzione dipende di di anche anche di di fare un uno contro uno o anche di trovare la situazione di ricominciare e cambio appunto d'attacco allora diciamo è sempre di trovare la la soluzione proattiva di trovare il il più uno quella superiorità nella fase difensiva eh di nuovo ovviamente se c'è la costruzione dell'altra squadra noi cerchiamo sempre di di indirizzare la squadra in una situazione che possiamo vincere la palla abbastanza alta ma in una situazione anche di capire quando dobbiamo rallentare un attimino chiudere gli spazi e poi di 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 trovare una situazione di 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 riprendere la palla allora diciamo i principi sono su questo stilo di gioco questo style di gioco e noi abbiamo anche le regole diciamo nella fase di di attacco e della fase di 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 difendere e che che sotto diciamo hanno hanno supportano questo stilo di gioco benissimo molto molto chiaro e io le faccio la mia terza di domanda eh prima di passare a chiedere un un momento un aneddoto della sua carriera da allenatore e prima di passare a questo le chiedo come organizza la seduta settimanale la settimana d'allenamento come organizza gli allenamenti durante la settimana sì diciamo 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 è sempre interessante ovviamente adesso che il turnover delle delle partite come lo sai meglio di me e delle volte bisogna capire ma diciamo prendiamo una una domenica a domenica noi normalmente eh noi normalmente è interessante perché anche culturalmente dovrebbe anche cambiare questa idea perché in Inghilterra a me piaceva fare il giorno dopo della partita eh un qualche un qualche diciamo un un recupero attivo nel senso e e già piantando le le idee per la la settimana prossima e martedì diciamo è riposo perché secondo me il quarantotto ore dopo dalla partita c'è il doms e da lì c'è un po' di rischio di 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 lavoro eh il mercoledì e diciamo il giovedì sono sempre facciamo una 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 seduta di intensità spazi ridotti alta intensità uno contro uno con un po' di con un po' di potenza power di forza scusa di forza e la forza non significa solo in palestra può essere anche in campo cioè eh uno contro uno proteggi la palla un recupero questo è normalmente il martedì il mercoledì il mercoledì il mercoledì scusa il giovedì sono sono più spazi più ampi più lunghe più eh diciamo eh di di alta di cerchiamo di fare alta intensità più diciamo un un lavoro aerobico se vuol dire eh il il venerdì è roba tecnica che è incluso con eh diciamo un po' di di roba di di tattica ehm cioè per la per la partita con la rifinitura il il sabato più o meno così ma la la diciamo il lavoro è fatto il il mercoledì e giovedì quando facciamo questa seduta di intensità estensivi e poi estensiva cioè spazi corti spazi lunghi alte intensità e diciamo cerchiamo di fare anche le situazioni di 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 nel giovedì eh di fare spazi più ampi su su quel punto di vista. ovviamente durante questa settimana c'è il video analysis facciamo tanti eh video individuale individuale anche quello del gruppo e anche quelli di parte durano sempre dieci otto minuti un quarto d'ora mica tanto però così completiamo la settimana così di chiudere la la partita che è passato e anche di introdurre la settimana che arriva. molto interessante che l'aspetto legato alla video analisi che trovo che sia fondamentale riuscire sempre a lavorare su su questi aspetti. Io mister prima di concludere le chiedo di raccontare un momento eh della sua carriera anche un un qualcosa che le viene un flash da raccontare eh così che ci vuole condividere. ma guarda eh eh forse forse è stato un 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 serio di di episodi perché lo so che il cammino di un allenatore è così è un c'è un po' di confuso confusione c'è un po' di sai quando inizia vedi delle cose dici guarda bellissimo li voglio fare li voglio rubare poi non riesco a farlo poi. sai sai il cammino è sempre un c'è un po' di confusione è un po' in inglese diciamo messi eh un po' qua un po' là così ma secondo me quella anche la bellezza del di un cammino di allenatore perché c'è sempre c'è sempre c'è sempre da imparare c'è sempre da confrontare c'è sempre questa questo cammina di di consapevolezza che secondo me è importante. forse dieci anni fa ehm 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 anche anche di meno otto anni fa eh ho deciso di di veramente sedere e e dice come voglio che le come giocano le mie squadre. cosa voglio che la mia personalità e cosa io la mia idea di calcio come lo posso mettere in in una frase o anche in in sette regole come come parlavo prima così diventa la la mia idea di calcio ma la cosa importante che la mia idea di calcio trasformato in campo in una lingua unita e non lo so mi è avvenuto proprio una situazione così che ho creato queste style rules queste 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 regole del del mio stilo che lo usi come bibbia ma la 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 bellezza di questo è che prima di tutto per trasformare le mie idee in campo e farlo questa è la cosa secondo me importante per un allenatore perché lo lo sappiamo che tanti abbiamo tante idee però per trasformarle in campo è o è difficile non è facile allora l'ho fatto per questo motivo la seconda cosa di con queste regole si crea una 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 cultura di lavorare una cultura di di lingua che usiamo sempre e ti do un esempio noi abbiamo uno che quando uno perdi la palla noi lo chiamiamo action reaction quando tu per la palla azione reazione subito e e senti che le ragazze durante un gioco di posizione un gioco di di campo lo dicono allora già siamo sotto sulla stessa lingua per dire un'idea così la seconda cosa su questo è che poi quando lo trasformi quando lo metti in campo le ragazze vedono una partita quando lo guardano in televisione o così sul nostro obiettivo allora ho creato questa idea di gioco questo queste regole diciamo per metterlo in campo ma anche per per le ragazze di avere un obiettivo quando guardano una partita non di guardare come un fan come un telecronista di guardarlo proprio sull'obiettivo se nostro stile di gioco e la e la e la e finisco su questo che bello quando vedi le ragazze che vengono a me guarda dicono guarda con queste regole di gioco non posso guardare una partita più normale le devo guardare sempre con le nostre regole di gioco action reaction line of pass pass cose così che se questo secondo me è una cosa importante interessante si poi la condivisione con le ragazze che vedono questo lo riconoscono in campo e si riconoscono quando c'è il video penso che sia fantastico importante esatto esatto mister io la ringrazio prima cosa la ringrazio per il tempo perché sempre poco e ringrazio per essere stato con noi con coaches che è la nostra community e grazie per tutto le auguro in bocca al lupo per il finale di questa stagione grazie a voi sono contento di essere qui e guarda con umiltà ti ringrazio troppo gentile grazie ancora e angolo una buona serata grazie mister grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti